amici amici e soprattutto amici a casa un bel benvenuto dai fratelli caro e soprattutto ben arrivati alla rubrica quotidiana fatevi affare vosso la ditta dei preziosi che oggi ci offre la sua mercanzia la potete vedere sopra scritta qua la coltere ai fortifusserolli di mazzara del bar amici e amiche telefonate al numero che fa impressione se avete il telefono del cellulare come ce l'abbiamo noi fate subito il numero che c'è tanta bella mercanzia da fare fuori il nostro santino è un aspetto di gioielli ci moscerà per tutto il nostro spazio della gold report ma passiamo all'estrazione del primo lotto l'otto numero uno eccolo qua signori guardate guardate che mercanzia guardate questo collare di perle resistentissimo che per sciapparlo alla concorrenza abbiamo dovuto usare tutta la nostra abilità sì che non ci veniva via la concorrenza e noi a strappare a tirare e la concorrenza che un lavoro lasciato lasciatevi vedere che lucente guardate che cosa che che freschezza ancora si sentono la che contenevano queste meravigliose per amici questa è una collana che ha avuto una valutazione di gran stima è stata valutata dal nostro ricettatore del nostro ricercatore è stata valutata pensate ben 5 milioni 455 mila lire e noi della gold lei voltevo solo la vogliamo offrire per vendere 15 mila lire 15 mila lire la facciamo la facciamo passiamo all'estrazione del secondo le lotte ce n'è a ben sempre espositore grazie guarda ecco qua amici queste finissime orecchini in taglio di capuccio taglio di capuccio taglio di capuccio a queste orecchini che possiamo anche aggiungere un'altra cosa in questo stesso modo se volo su due spositore guarda questo rubino il taglio russo color sangue di pecciotto ma non è finita non è finita perché ci abbiamo anche un'altra cosa d'accordo il cavallo del battaglio guardate solo la confezione come si presenta guardate cosa c'è un orologio placato durante una risca tagliamo corto che cosa vediamo di queste cose l'orecchino le cose la garanzia me la diamo tutta a 17 mila 700 mila il tempo amici è al metro non ne voglio più sapere comprate e telefonate perché ne abbiamo bisogno basta così e ci vediamo per le prossime proposte della ditta arrivederci a tutti quanti arrivederci buonasera